Buongiorno a tutti. La curva dei contagi sale in maniera vertiginosa di giorno in giorno. Il Governo tenta in tutti i modi di evitare un lockdown generalizzato che metterebbe in ginocchio l'economia del nostro Paese. Le regioni tentano di limitare i danni imponendo il coprifuoco notturno e nei limiti del possibile lo spostamento da una regione all'altra e nonostante tutto il Ministero porta avanti il suo programma di svolgimento del concorso straordinario. Le prove concorsuali sono partite il 22 ottobre e si protrarranno per diversi giorni costringendo migliaia di docenti a spostarsi da una regione all'altra con ogni mezzo aereo, treno, pullman e addirittura navi per poter raggiungere le sedi di svolgimento delle prove. È evidente che non saranno sufficienti i protocolli di sicurezza approntati dal Ministero per lo svolgimento delle prove scritte perché non si è tenuto minimamente conto del fatto che appunto migliaia di persone saranno costrette a spostarsi e quindi affrontare viaggi con i mezzi pubblici che abbiamo visto sono notevolmente affollati quindi creando assemblamenti facile strumento di propagazione del virus. Sappiamo che per molti docenti quella del concorso straordinario è un'occasione quasi imperdibile per poter accedere al ruolo e quindi gioco forza si vedranno costretti a partecipare al concorso ripeto esponendosi al rischio. La risposta del Ministro tra l'altro a quanti hanno obiettato che per motivi oggettivi non potranno presentarsi le prove è stata sostanzialmente un nulla di fatto nel senso che ha detto arrangiatevi peggio per voi perché ha obiettato che non sarebbe possibile assodire lo svolgimento di una prova suppletiva. Tuttavia ricordiamo al Ministero che nei precedenti concorsi a cattedre il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto lo svolgimento di prove suppletive che possono essere effettivamente svolte anche in questa procedura viste le caratteristiche della prova scritta che consentono appunto lo svolgimento di prove suppletive. Pertanto rinnoviamo l'invito a quanti si dovessero trovare impossibilitati a presentarsi il giorno della prova in quanto posti in quarantena obbligatoria o fiduciaria o addirittura ricoverati o perché sono soggetti fragili in quanto affetti a patologie che li esporrebbero a gravi rischi per la loro salute qualora dovessero contrarre il virus a presentare l'istanza che è possibile scaricare dal nostro sito con cui si invita il Ministero a metterli a una prova suppletiva ed eventualmente in caso di risposta negativa o di mancata risposta avviare un'azione giudiziaria. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.